Buongiorno, voglio fare una zuppa, come si può solo dire, tardiva sulla questione del GIP, del giudice delle indagini preliminari di Agrigento, che ha deciso di annullare l'arresto della capitana Carola Racchete, della comandante, scusatemi, Carola Racchete. Perché voglio fare questa zuppa tardiva? Perché, vedete, io penso che siamo veramente all'assurdo, siamo all'assurdo, ma non è una novità in questo paese, perché voi potete anche togliere Salvini, potete togliere anche le attuali contingenzi, ma quello che succede è che ci sono dei magistrati che fanno politica e lo hanno sempre fatto. Guardate che non sto dicendo delle cose assurde, a una recente assemblea dell'organizzazione dei magistrati di sinistra, della corrente di sinistra dei magistrati, che paradosso dei paradossi era in minoranza e oggi è diventata maggioranza per la questione Palamara, a un'assemblea, dicevo, di questi magistrati di sinistra, come vedete sul sito nicolaporro.it, vi consiglio di vedere quelle immagini incredibili della loro segretaria, dicono che il comportamento di Salvini è un comportamento xenofobo, razzista e rischia di diventare autoritario. Allora, se una componente dei magistrati considera una legge dello Stato, razzista, xenofoba e autoritaria, cioè il decreto sicurezza, quando quella stessa componente dei magistrati, lo dice pubblicamente, non lo dice con un Trojan come è venuto per Palamara, ma lo dice in un'assemblea di questi magistrati e quando il nostro giornalista chiedeva agli altri magistrati, ma si rende conto che cosa state dicendo? Una legge votata dallo Stato? Questa legge non solo è votata dallo Stato, ma è stata timbrata dal Presidente della Repubblica Mattarella, che se l'avesse considerata fascista, forse Mattarella, insomma ci possiamo fidare almeno di lui. Insomma, quando questi magistrati si trovano il comandante Racchete, che non solo viola un blocco che fino a prova contraria possiamo legittimamente fare dei nostri confini, non solo fa quello, ma urta e sperona una nostra pattuglia della Guardia di Finanza in mare e poi dice è sbagliato arrestarla, vuol dire che quel capitano di quella barca, vi rendete conto? Quel capitano di quella barca, teoricamente se non ci fosse Salvini, se non ci fosse questo paese che in realtà grazie a Dio non sta con questi magistrati, potrebbe prendere quella barca, potrebbe riandare a prendere altri migranti, potrebbe ritornare in Italia e se qualcuno le dice no non si può perché c'è una legge, potrebbe urtare un'altra navetta della Guardia di Finanza, perché il punto del GIP di oggi è che ha detto che tutto quello che ha fatto è legittimo perché ha salvato i migranti, porca puttana, e allora io domani mattina per salvare i migranti posso fare esattamente la stessa cosa. Esiste un'Italia, non della legalità, un'Italia che oggi è stata eletta democraticamente che vuol fare qualche cosa e c'è invece una magistratura che ha deciso che quella cosa che vuol fare questa Italia che ha eletto democraticamente è autoritaria, è fascista, il che ci può anche essere in assoluto, perché se noi siamo in un paese in cui ci siamo inventati Antigone, questa minchiata di Antigone, Antigone è il simbolo della libertà contro la dittatura, ma c'è un piccolo particolare, toc toc magistrati, vecchioni, giornalisti, PD, che oggi non abbiamo una dittatura, non esiste una dittatura, Mattarella non è il re Vittorio Emanuele, Salvini non è Mussolini come non lo è neanche Conte, perché se no in questa storia per cui Berlusconi era fascista, per cui Salvini è fascista, può anche andar bene quello che ha scritto uno degli occupanti della nave, mentre questa nave stava andando contro una navetta della Guardia di Finanza, c'era un parlamentare del PD che si chiama Faraone, che potete vedere su Twitter, che alla Meloni dice speriamo che si faccia un blocco navale perché tu rimanga sempre fuori dall'Italia, perché ti blocchino fuori dall'Italia, non è che io ho simpatia particolare per la Meloni, ma possiamo avere simpatia nei confronti di un parlamentare che considera la Meloni e vuole che la Meloni non torni più in Italia, e che cosa avrebbero detto quelle teste di minchia di progressisti, di tutti questi circoletto boldriniano se una donna della sinistra fosse così stata trattata da un deputato meridionale del centrodestra, il sessismo, io non penso che sia sessismo, io penso che in questo paese sinistra e magistratura continuano a governare sotto mentite spoglie e non c'è nulla da fare, io non sono un fan, perché la gente forse non l'ha capito di Salvini, non me ne fotte nulla di Salvini, sono un fan di un paese qualsiasi uomo lo governi, per cui se fa una legge, quella legge non viene sputtanata da una rasta trentenne tedesca che pretende di fare i cazzi suoi anche umanitari senza rispettare le leggi come io fra cinque minuti sono costretto a fare perché devo indossare il mio cazzo di casco, io sono nato in una generazione che il casco non lo usava, mi hanno obbligato a usare il casco per il mio bene, pensate voi quanto sono contento, userò il casco e se non mi metto il casco o se non passo col mio motorino a un blocco o se tampono una macchina dei carabinieri, pensate se un diciottenne tampona una macchina dei carabinieri, che gli fanno i carabinieri? Vabbè, ecco in questo paese noi stiamo facendo diventare eroina, io sto con Carola e la togliamo dal car, cioè annulliamo l'arresto in fragranza di reato perché lei stava salvando i migranti, una complice, non c'è nulla, è semplicemente banale, una complice dei trafficanti, volontaria o involontaria si potrà stabilire, ma che sia una complice dei trafficanti non c'è un dubbio perché i trafficanti la portano con i barchini in mezzo al mare e barchini che non arrivano fino all'Italia, lei li tira fuori e li riporta in Italia e non in Libia, quindi è tecnicamente una complice dei migranti, dei trafficanti di uomini, si può discutere se questo lo fa per un disegno scientifico o lo fa per umanità, non me ne frega niente, ma noi le complici dei migranti le teniamo a casa loro, no? Speriamo che si occupino di portarli in Olanda, in Francia, vuol dire essere salviniani? No, questo vuol dire essere liberali perché l'altra cosa che tutti dimenticano, dove sono finiti i liberali, i liberali ragazzi non solo rispettano leggi, tendono a rispettarle, ma pensano che lo Stato debba esistere, sapete perché cosa? Adamo Smith 1789 per amministrare la giustizia e pensate un po' come la facciamo, addirittura per fare le opere pubbliche che i privati non riescono a fare e per difendere i confini nazionali, quando mi rompono le palle dicono cosa ne pensano i liberali? I liberali pensano i confini nazionali, possiamo farli anche europei, non solo italiani, sono dal 1789 ed Adamo Smith il principio fondante di una democrazia liberale! Vabbè, e comunque, beati voi, ciao!